Allora, il libro da consigliare è abbastanza semplice, il libro della vita, questo, eccolo qua, Terzani, un altro giro di giostra, si vede che è il libro della vita perché si vede che è bello ingiallito, bello consumato, usato, letto almeno una decina di volte, il libro che ti accompagna, il libro che ti sostiene, il libro che ti dà la forza nei momenti brutti, è un libro bellissimo, scritto da un giornalista, un giornalista che scrive in maniera eccelsa, che casualmente dopo aver girato in lungo e in largo il mondo, aver conosciuto i potenti, quelli veri, si scopre improvvisamente ad avere non uno ma tre tumori. Non è il classico libro sul tumore, sul dolore, la scena, la discesa all'inferno, la risalita in paradiso, assolutamente, è il libro di una ricerca, di una cura, di una terapia a 360 gradi, fatta da un uomo curioso, che alla fine diventa la ricerca della propria spiritualità. Non è pesante, è un compagno di viaggio, assolutamente da leggere, meditare, assorbire, e vedrete che alla fine sarà dura mollarlo, a me succede sempre ogni volta che l'ho letto, e l'ho letto almeno una decina di volte, gli ultimi capitoli li leggo lentissimo, perché ho paura che questo compagno mi abbandoni. Libro che vi servirà molto e vi aiuterà molto a crescere. Buona lettura.